Il Bracchetto d'Acqui è sicuramente il vitigno acquese. Negli anni, per 25 anni, il Bracchetto d'Acqui ha dato una resa finanziaria ai produttori decisamente interessanti. Oggi è un momento di difficoltà del mercato, ma ecco perché abbiamo tirato fuori questa versione secca, che può essere bevuta durante tutto il pasto. Nello stesso vigneto ci sono due possibilità, il dolce e il secco. Questo rosè, siamo all'inizio, è il primo anno in cui si produce effettivamente il rosè, lo stiamo presentando un po' dappertutto. Come consorzio abbiamo aperto gli imbottigliamenti all'esterno della regione Piemonte, perché non tutte le nostre aziende oggi sono in grado di consumare il nostro prodotto e di metodo sui mercati. Come consorzio abbiamo aperto gli imbottigliamenti all'esterno della regione Piemonte.